Nelle scuole del comune di Cicerale dal prossimo anno arriverà il bilinguismo ad annunciare questo progetto ai nostri microfoni e il sindaco di Cicerale Gerardo Antelmo soddisfatto per gli investimenti sulla scuola e quindi sul futuro che l'amministrazione ciceralese sta attuando come spiega il sindaco nelle lezioni pomeridiane i bambini avranno la possibilità di parlare in inglese con dei madrelingua americani che si trasferiranno a Cicerale per tre mesi conoscere una lingua equivale ad una laurea parole del sindaco Antelmo che sottolineano l'importanza di questo progetto e della conoscenza di una lingua in particolare dell'inglese oggi requisito quasi fondamentale nella società. Cicerale punta forte sui giovani e questo progetto che dal prossimo anno scolastico sarà in realtà lo conferma. Stiamo investendo moltissimo sulla scuola perché dal prossimo anno ci sarà il bilinguismo, i bambini delle scuole il pomeriggio potranno parlare in inglese con madrelingua americani che si trasferiranno a Cicerale, staranno tre mesi ognuno e diventeranno una sorta di pubblico con il quale dialogare e con il quale conversare, questo da parte appunto dei bambini e questo è un modo importante per dare una svolta soprattutto per l'educazione delle nuove generazioni perché fra dieci anni sono convinto che chi non conoscerà l'inglese sarà tagliato totalmente fuori dalla società, già in parte così. Conoscere una lingua equivale a una laurea a mio avviso, quindi è importante questo. Con il dirigente scolastico, il professor Rendina, abbiamo già stipulato una sorta di accordo, dal prossimo anno questa sarà realtà.